Bene, adesso ti collego Wi-Fi o 16 Wi-Fi? Perché non entriamo e basta? Sì, ma cos'è questo Wi-Fi? Eh? Beh, effettivamente tornare a fare il doppiaggio di un personaggio Disney come la prima volta è stata un'esperienza molto bella e soprattutto molto diversa e divertente per me Storia interessante Il mio pile driver rotante si ispira all'Opac Aveva un insegnante in Russia Mi diceva Zangief, devi studiare la danza quanto il wrestling Beh, con il mio personaggio Zangief diciamo che abbiamo magari in comune un po' la stazza ecco, la stazza fisica tutte e due abbastanza grandi poi magari per quanto riguarda i peli forse io sono un po' più o meno peli che Zangief, diciamo Ragazzina, mi sa che non siamo più da Litwack Lo puoi dire forte, amico mio Siamo i miei internet Andiamo, Ralf! Il rapporto che ho con Inter con Social Media è poi il rapporto che abbiamo un po' quasi tutti al giorno d'oggi diciamo di condivisione di informazione cercare di condividere e far condividere anche ai tifosi e al pubblico diciamo un po' quello che è la nostra vita di atleti o la nostra vita privata Interessante, Bison Tu che ne dici, Ralf? Pensi che Dostoevsky volesse rendere il narratore inaffidabile? Amici, tifosi, famiglie vi invito a venire al cinema a vedere Ralf Spacca Internet il primo gennaio Ralf Spacca Internet 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 Ralf Spacca Internet